Eccoci qua amici di Motofan al nostro consueto appuntamento dove cercheremo di fare il punto su una domenica incredibile, piena di emozioni in perfetto stile, Superbike, Nürburgring, ormai siamo a due gare al termine, passato il Nürburgring, 100 punti a disposizione, due italiani nel mondiale, ma come si fa a fare il riepilogo di tutto quello che è successo? I nostri due piloti invece di confrontarsi in pista si sono confrontati con una fortissima tensione che forse ha schiantato Marco Melandri e ha fatto perdere punti preziosi a Max Biaggi, insomma cerchiamo di andare a capire insieme che cosa è successo in questa pista che ha per quattro volte ribaltato la classifica del mondiale, proiettando ora Biaggi di nuovo in testa, poi di nuovo a Melandri primo nel mondiale e poi di nuovo Biaggi, andiamo a vedere che cosa è successo in gara 1. Siamo pronti per il via con un Max Biaggi che deve recuperare l'errore e la caduta, ma qui c'è un'altra caduta ancora di Ceca e della Ducati che ormai davvero dà l'addio al titolo, subito dopo viene seguito da Giuliano, disastro per la squadra, ma incredibile nei primi giri l'errore viene da Marco Melandri, era davanti ai 18 punti, doveva gestire il vantaggio e invece cede sotto l'attacco di Max Biaggi che è venuto carico, ha riportato la moglie al box, ha ritrovato la serenità, ha ritrovato la pole position e va a vincere gara 1 e strappa di nuovo la leadership delle mondiale dietro 3 Aprilia sul podio con l'Averti e un grande Charles Davis. Davvero incredibile colpo di scena per Marco Melandri che casca e cede il mondiale di nuovo a Max, un Max micidiale, implacabile, pole position, è arrivato con la Pedron al box, carichissimo, primo in tutte le sessioni, sempre davanti a Melandri, questo mi sa che ha minato la fiducia del pilota della BMW che correva proprio in casa della BMW, che era in testa al mondiale Marco e piloti, insomma tantissima pressione e l'unica caduta di Marco nel corso della stagione a Donington era stato falciato, a Misano un problema meccanico, mai caduto, proprio mentre è in testa al mondiale in casa della BMW, molto strano, è grande Max perché ha reagito molto bene, lui ne aveva fatte due di scivolate sul cordolo, pista umida e anche a Mosca sulla riga bianca, sfortunate, cadute lievi però punti persi, preziosi, ora è tornato in testa, pochi punti, sempre con la virgola per la gara bagnata di Monza, però andiamo a vedere come reagiscono i due italiani e attenzione perché qui sta guadagnando terreno anche il portacolori della Kawasaki Sykes che sembrava irrimedialmente fuori dai giochi per il mondiale, andiamo a vedere perché ne succedono delle belle ancora di più in gara 2. Pronti per il via, gara 2, nuovo faccia a faccia, Melandri, piaggi, 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 primissime battute, vola via, viene ingannato dalla staccata lunga di Sykes che tira dritto l'Averti e Max perde l'anteriore, erroraccio, riparte ma niente da fare, il mondiale è di nuovo virtualmente sulla BMW in casa per Marco Melandri che rimedia così all'erroraccio di gara 1, ma va via anche lui ed è incredibile, colpo di scena, doppia caduta, i due piloti italiani in questa gara 2 hanno raggiunto il massimo della emotività e del confronto e della rabbia l'uno contro l'altro, due errori che possono compromettere il mondiale e magari lanciare Sykes all'improvviso, Portimao e Magnecourt, incredibile gara che vede però un fantastico è da non credere ma sono volati via tutti e due, è volato via prima, Max gli ha tirato la staccata l'Averti, veramente abbastanza comprensibile, veramente l'ha tirata Sykes, L'Averti è andato lungo e Max che era il terzo è arrivato ancora più lungo e non ci si aspettava un errore così da Max che è risalito e ha preso 3 punti che potranno a questo punto diventare fondamentali, forse anche insieme a quelli del sorpasso di L'Averti che gli ha ceduto il passo e non doveva cascare Melandri, ecco in testa tranquillo con un buon passo, un grande ritmo, doveva prendere punti preziosi e presentarsi a Portimao sempre in testa e incrementando il vantaggio, scancellando subito l'errore fatto in gara 1, invece gara nerissima di Marco e grande gara dell'Aprilia perché ha fatto praticamente 5 posti su 6 disponibili nei due podi, ha preparato veramente una super moto per un super finale del Mondiale, a questo punto la vedo più difficile assai per Marco Melandri che veniva da Misano fino a Mosca all'arrembaggio a testa bassa senza nessun errore commesso, ora due così pesanti, diventa davvero difficile, però è un Mondiale talmente aperto, talmente bello che staremo a vedere a partire da Portimao e Magnicour, intanto complimenti al team Virgin Parking Go per il pilota Chats Davis che va a contendere a Buzz il titolo di Rookie of the Year, tanto che la BMW lo ha già messo in squadra ufficiale il prossimo anno insieme a Marco Melandri.